Il maltempo di ieri notte ha comportato qualche disagio e disguidi in varie zone della provincia, tra cui Agordo, Pieve di Cadore e Perarolo, ma in modo particolare sul Feltrino. Il vento e la pioggia hanno infatti trasportato ramaglie e fogliame sulle strade, in particolare nell'area compresa fra i quartieri di Farra e Bosca Ritz, dove è stata colpita in special modo la scuola elementare di Bosca Ritz. L'albero di una vicina proprietà privata è caduto sopra il complesso scolastico, abbattendo anche una delle piante del giardino dell'istituto. La segnalazione di quanto accaduto è arrivata questa mattina alle 8 ai vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti tagliando le piante cadute e mettendo in sicurezza l'area. Nessun danno strutturale sembra essere stato registrato, ma, precisa l'assessore alla protezione civile Adis Zatta, a corso sul posto, per un riscontro più puntuale per la rimozione dei materiali, sarà necessario attendere lunedì, quando, di concerto con i proprietari dell'area privata, verranno stabilite le modalità di taglio e smaltimento delle piante e si procederà ad una verifica dei danni riportati dall'edificio scolastico. Conclude Zatta. Ad una prima sommaria analisi si rilevano conseguenze alle grondaie e alle parti esterne delle coperture, mentre il corpo del fabbricato potrebbe non aver subito danni di rilievo. Occorrerà comunque effettuare le opportune verifiche, anche in vista dell'inizio dell'anno scolastico. È stata invece divelta buona parte della recinzione del lato sud. C'è anche la recinzione del lato,